Ciao, sappiamo tutti la ben nota frase che il tempo è denaro. Tu cosa fai del tuo tempo? Come lo usi? Lo butti via? Lo gestisci bene? Sei sempre di corsa? Vivi con stress? Vivi con ansia? Hai mille impegni? Non riesci a avere tempo per te? Come lo usi? Il tempo è qualcosa di molto prezioso, insieme all'energia è l'unica cosa veramente importante che abbiamo, perché tutto il resto si crea, si distrugge, va e viene, ma il tempo, l'energia vitale che noi impieghiamo nel tempo è quello che direziona il nostro benessere, il nostro risveglio, la nostra vita, i nostri obiettivi, le nostre relazioni e quindi capiamo quanta importanza c'è nel tempo. Quindi che cosa facciamo del nostro tempo? Ogni giorno, se tu analizzi la tua giornata, se hai un attimo, ferma proprio il video e pensa a tutto quello che fai tu in una giornata. Quanto tempo è tempo di routine meccanico, quanto tempo è di qualità. C'è un bellissimo corso che facciamo proprio ai manager, agli imprenditori, perché a volte manca la capacità della delega. Mancando la capacità della delega, cosa significa? Che me lo faccio da solo perché me lo faccio meglio, ma facendo questo ci troviamo a fare cose anche di profilo più basso rispetto alle cose che spetterebbero a noi, che renderebbero di più nella nostra vita, interiore ed esteriore, di benessere economico e benessere emotivo e ci troviamo invece a fare situazioni rutinarie, meccaniche, esterne. Quindi anche la selezione delle cose che facciamo è fondamentale. C'è una divisione che fa Covey, molto interessante, tra cose importanti e non importanti, urgenti e non urgenti. Fa proprio una tabella di incrocio che puoi tranquillamente trovare sulla rete, ma di cui magari un giorno ci prenderemo la briga di approfondire l'argomento. Che proprio ci spiega molto bene che l'unica cosa di cui veramente dobbiamo occuparci ora sono le urgenti importanti oppure le importanti non urgenti. Dobbiamo arrivare a un punto in cui abbiamo talmente riorganizzato la nostra giornata e il nostro tempo in cui esistono solo le importanti non urgenti e poi le altre di seguito. Esiste anche uno stato d'animo con cui gestire le situazioni, perché molte cose si possono anche sistemare da sole senza il nostro eccesso di intervento. C'è un, sai che lo chiamiamo too much nel fare, nello sforzare, nell'andarci dentro, nelle situazioni, nel proporci in continuazione. Ecco c'è un troppo fare. Invece è fondamentale come insegna anche il nostro caro Deepak fare e non fare. Anche tolle sapete no? Fare e non fare. Il risultato che viene anche dal non fare. Un po' come dicono un po' come la musica che è fatta non di continue note, è fatta di note e pause, note e pause, note e pause. Se non c'è la pausa a un certo punto diventa un suono unico, continuo, che non dà nessuna musicalità. La musicalità nella tua vita, l'armonia nella tua vita è data proprio da questa alternanza, ok, di situazioni positive, da questa situazione vuoto, faccio, non faccio, faccio, non faccio, faccio, non faccio. E quindi su questa onda di armonia proprio creiamo questo nostro esercizio di oggi. Quindi partiamo dal punto Karate, sapete che usiamo la tecnica dell'FT, frasi più tapping di alcuni punti che fanno entrare ancora meglio le informazioni. Quindi partiamo subito. Anche se non sempre uso bene il mio tempo e spesso mi sento stressata dalle cose da fare, dalle urgenze, dalle priorità e non ho tempo di qualità per me, perché sono nel fare, io mi amo e mi accetto completamente, profondamente. Voi direte come fai a sapere che la mia vita è così proprio, ma cosa mi conosci? Ecco sì, conosco la media di tutti noi che applichiamo questo sistema. Quindi siccome il 95% della popolazione vive così e stai guardando questo video, quindi ovviamente ti interessa di organizzare il tuo tempo, è naturale che le cose stanno andando in questo modo, ok? Quindi sapendo che le cose vanno in questo modo, sopra la testa, mi permetto di portare luce, portare visione, portare consapevolezza, portare ascolto, portare introspezione in me. Centro dell'occhio smetto di agire meccanicamente, in modo ripetitivo e frettoloso impaziente. E introduco nella mia giornata una domanda, prima di ogni azione. È urgente? È importante? È di qualità? C'è l'azione che sto per fare sotto l'occhio. L'azione che sto per fare. È urgente? È importante? È di qualità? Sotto il naso. E poi un'altra domanda per me. Sono a fare i miei? O sono a fare degli altri? Cioè è una cosa che devo fare io? O è una cosa che deve fare qualcun altro? Sotto la bocca. E giorno dopo giorno, introducendo questa domanda e cominciando anche a rispondermi, senza forzatura, ma in modo spontaneo, io comincio a sfoltire la lista delle cose da fare. Clavicola. Restituisco agli altri ciò che devono fare loro? Faccio ciò che devo fare io con calma e pace interiore? Punto del timo. Faccio ogni cosa con amore. Mi innamoro di tutto ciò che devo fare? Sotto l'ascella e comincio a ritagliarmi del tempo di qualità. Cioè, come vedrete i video, impostazione della mattina con le intenzioni e ricapitolazione la sera. Cinque minuti la mattina, tre minuti la sera per me. Con altri video che poi vi incollo sotto nella descrizione. sotto il seno. Sotto il seno, proprio per poter sentire l'essenza della mia vita. Un bel respiro. Tabacchiera. E porto dentro di me un nuovo modo di vivere. Un nuovo modo di fare e non fare. gamut. E lascio che questo nuovo mood diventi il faro della mia vita. Punto delle dita. Sono pronta per questa evoluzione. Per diventare consapevole del mio valore e del valore del mio tempo. Delle mie azioni. Del mio mondo. Grazie. Un bel respiro. e lasciate proprio che questo video lavori con voi ogni giorno. Fatelo. Portatelo nella vostra presenza e consapevolezza. Facendolo. Vi accorgete proprio di come avete bisogno di sfoltire delle cose. Cosa che potete, molte di queste, sfoltirle anche da soli. Così invece che sentite che vi prendono energia. E quel tempo, energia. E questo ovviamente possono essere gestite insieme nelle nostre coaching individuali, quotidiane. Buona pratica. O nei nostri corsi, certo. Corsi aziendali, corsi personali. Una crescita che è anche un grande piacere e benessere. Oltre naturalmente a divertimento, piacere e benessere. Ma anche pratica. E il pragmatismo nella quotidianità che tutti quelli che conoscono e ci frequentano sanno che fanno parte della nostra della nostro mood. Quindi buona pratica e naturalmente buona consapevolezza e buon tempo.